Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Dopo il successo delle prime due edizioni, è confermata ad Ardesio la terza edizione del Festival Cinematografico Internazionale Sacrescene, che è organizzato da Vivi Ardesio con la direzione artistica dell'Associazione Culturale Cinema e Arte e con Promotori Comune di Ardesio e Proloco Ardesio e in collaborazione con la parrocchia San Giorgio Martire di Ardesio, si terrà da venerdì 26 a domenica 28 agosto. Il Festival verrà inaugurato venerdì 26 agosto nel Cineteatro dell'Oratorio di Ardesio alle ore 20. Sabato 27 agosto alle ore 18 presso il Parco Villa Fan di Rovetta si terrà la cena con delitto. Iscrizione obbligatoria presso la Proloco di Rovetta in via Vittorio Veneto. Serio Art, tavolo operativo che in Promoserio si occupa di valorizzazione culturale, propone la prima edizione della rassegna culturale Serio Art ti racconta Acqua, preziosa acqua. Dal 28 agosto al 5 novembre in programma un calendario di visite guidate abbinate a letture teatrali o accompagnamenti musicali in luoghi aperti, in vie eccezionali o proposti sotto nuovi punti di vista. Primo appuntamento domenica 28 agosto a Villa di Serio con il tema Il fiume dove nacquero le civiltà e visita guidata con lettura teatrale. Ritrovo alle ore 10 presso il Bike Park del Bar Bicicletta al Sano Lombardo. Domenica 28 agosto a Peia in Val Gandino andrà in scena la prima edizione del Trail della Lana, ideato e organizzato da Sciclub e Comune di Peia. Partenza ore 9.15 dal Comune di Peia a seguire pranzo e premiazioni. Percorso di 20 chilometri con dislivello positivo di 1100 metri. Domenica 28 agosto a Casnigo si terrà la diciottesima edizione della Sagra degli Uccelli alle ore 5.30 apertura della Sagra presso il Santuario della Santissima Trinità. Continuano gli appuntamenti con la rassegna nel cuore della montagna con Davide Sapienza. Quinto appuntamento domenica 28 agosto alle ore 8.30 ad Albino con il tema Sporgersi sulla Val Seriana dalla Varrovaro, difficoltà percorso media. Torna alla rassegna Parco Vivo che vi porta alla scoperta della natura e della cultura territoriale. Domenica 28 agosto alle ore 10, visita guidata alle miniere di Schilpario. Passiamo ora agli appuntamenti per scoprire le ricchezze naturalistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche della Val Seriana e della Val di Scalve. Domenica 28 agosto distretto del commercio Alta Valle Seriana in collaborazione con Ecomuseo delle miniere di Gorno organizza una visita guidata alle miniere di Costa Iels. Ritrovo alle ore 15 in piazzale Bersaglieri. Domenica 28 agosto distretto del commercio Alta Valle Seriana in collaborazione con Artelier organizza un laboratorio sulla scrittura presso il Parco archeologico di Parra Opidum degli Orobi di Parre. Ritrovo alle ore 15.30 presso l'Antiquarium in piazza San Rocco. Domenica 28 agosto Viva Ardesio organizza una visita guidata al Santuario della Madonna delle Grazie. Ritrovo alle ore 14.30 davanti al Santuario. Prenotazioni sul sito www.valseriana.eu sezione esperienze. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 035 70 40 63. Per chi non usufrisse del servizio di prenotazione online è possibile pagare anticipatamente la visita presso l'infopoint Valseriana e Val di Scalve due giorni prima dell'uscita. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Valseriana e in Val di Scalve sul portale www.valseriana.eu e prenotare le vostre esperienze direttamente dalla piattaforma online. Arrivederci e buona serata!